Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRigYtube01 Prima di iniziare il video saluto La Ale Lisa Bonfadini Gaccia Viola Ban Palessio Varsalona Sanji Youtube Red Fox Se volete essere salutati Ragazzi commentate qui sotto Hashtag salutami Allora, qui siamo su Rainbow ragazzi Perché sto finendo il mini battle passo Chiamami pure Harry Allora, per ora ho sbloccato questo qui Il lavoro di Harry Il ciondolo di Harry, cioè la vita di Harry Il progetto di Harry E mi manca solo il cibi di Harry Che ovviamente metterò ad ogni arma Perché mi piacerà tantissimo Andiamo in molti giocatori Partita classificata E Iniziamo La partita Spero di trovarla subito Oregon Ragazzi, Oregon È una mappa molto Che riesco a giocarci meglio È una mappa che mi piace tantissimo Togliamo subito Togliamo subito Juggal Perché non ci piace Anzi, io direi di togliere Thatcher Allora, se potete raggiungermi ragazzi Mi chiamo X-Riki Due trattini bassi Zero uno Dove la posso mettere Io li metterei qui ragazzi Se ne stanno giocando solo quelli Io non sto facendo niente Ok, ho fatto una bella kill Diciamo Perfetto Perfetto Subito 1-0 Per noi È stato velocissimo Questo round ragazzi Oddio, guardate questo Come voce Collesione ragazzi Ci sono tipo Delle trappole Che metti per terra Dei Gu Che vengono chiamati così Che sarebbero delle Queste cose qui Sotto i fatti di sopra Ti avvelenano E ti tolgono 5 Ogni 5 di vita Ogni Non c'è un po' di vita Non mi ricordavo Mesa 20 10 Boh, mi ricordo ben Però toglie vita Sì ragazzi Meno male Mi sono buttato da Mi sono subito abbassato Meno male Meno male Meno male Stiamo a 3-1 Vero? Dai, dai, dai Dai che vinciamo Dai che vinciamo Ragazzi Dai, dai E finiamo anche il pass Se vinciamo Dai che vinciamo Dai che vinciamo Dai che vinciamo No, non l'avevo visto Ragazzi Peccato Guardate come si era messo Io non ci riesco A fare ste robe Anzi che ho ucciso Maestro E l'altro Mute Va bene Va bene Possiamo recuperare Cioè possiamo vincere Non recuperare Io mi prenderei Buck Un'altra volta Mamma mia Mamma mia La gente Regà Mamma mia GG per doc Bravo, bravo Dai ragazzi Dai Forza e coraggio Contro uno Magari vedo qualche Cam Vi aiuto Insomma Boh io lo sento Sopra Eccolo No Sta sotto No Non mori Non mori No ragazzi No eh No ragazzi Un famoso Scherzi Uo ragazzi Stai tranquillo Sta qui Ok Se n'è andato È rientrato È rientrato È rientrato C'è Waka Grandissimo Bravo Stai 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 Aspetta che vado a curare quello lì? Sì abbiamo vinto Perfetto raga perfetto Dai sono contentissimo GG pewaga Perfetto raga perfetto E abbiamo completato E abbiamo completato questo mini battle pass di Rainbow Six Mazzia quella era Platino 3 E eccolo qui ragazzi Completato livello 7 E ecco qui ragazzi Chiamami pure Harry Completato e c'ho il ciondolo Quando ero ragazzo ho inventato un mio sistema matematico Che chiamavo spettacoloso A chi mi chiedeva rispondevo Che serviva a mappare i miei sogni Spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi Lasciate tantissimi like con il video E bella Ciao